E' più importante la storia o lo stile? Lo stile è una parola quasi pericolosa, anzi la definisco proprio pericolosa, perché viene percepita come quello è il mio segno tipico. Ma il segno tipico che cos'è? Il segno tipico fa parte del tuo essere, come tu affronti con la storia. Invece un grande errore, soprattutto all'inizio, è dire io faccio solamente, un esempio nella pittura, segni neri, ma tu poi non puoi fare segni neri per il resto della tua vita. E in questo senso nel rapporto con la storia è la stessa cosa, non puoi schiacciare la storia rispetto a uno stile prestabilito, ma in questo senso c'è una predisposizione a una storia oppure un modo di approcciarsi a una storia. E' la tua cultura personale che determina dopo lo stile in quello che fai. Non è quindi prima antecedente, ma è qualcosa che si sviluppa con l'andare a costruire e sviluppare la tua professione e la tua sensibilità come artista. Il tuo modo di approcciarti sempre soggettivo a qualcosa, a una storia. E se tu la rispetti, allora già nel tuo rapporto dialogico con la storia il risultato avrà il tuo stile, il tuo segno. Ma questo assolutamente non deve arrivare prima perché andrebbe a schiacciarla. Ed è una cosa che insegna tantissimo. Spielberg, Kubrick, andando al teatro anche Streiler. Loro dicevano per primi che partivano dalla storia e si facevano indirizzare loro dalla storia. Si lasciavano guidare per mano dalla storia. E nel dialogo con la storia nasceva il loro progetto. E in questo senso la differenza è fondamentale perché il risultato sarà tuo, ma anche rispettoso, di quello che stai raccontando.